La passione di Gesù Cristo di padre Gaetano da Bergamo. 28 aprile. Gesù è preso nell'orto dai suoi nemici. Punto settimo. Sarebbe veramente strano se il buio non scomparisse in presenza di una luce sfolgorante. Ebbene, questo si verifica proprio per quei poveri giudei che stanno intorno a Gesù. Essi, infatti, invece di lasciarsi illuminare per poter riconoscere il loro peccato, diventano sempre più ciechi fino al punto di legare Gesù ai fianchi, al collo e ai polsi, continuando ad insultarlo e a maltrattarlo con accanimento. Riflessione. È una grande umiliazione per Gesù vedersi legato come se fosse stato catturato con la forza mentre egli stesso si ha reso ed è ora disposto a seguire ovunque i suoi aguzzini. Patire e morire con le mani legate è sempre un disonore per un eroe perché potrebbe essere giudicato dagli altri un ribelle o un pauroso che subisce la pena senza alcuna forza d'animo. Non è possibile quindi pensare che nostro Signore sia rimasto indifferente nel vedersi legato a quel modo. Egli patisce ancor di più perché, come dice il profeta, sente tutto il suo corpo stretto da altri vincoli molto più dolorosi di quelli materiali. Sono tutti peccati da Adamo fino alla fine del mondo che, riuniti insieme, formano una catena così lunga e così grossa da avvilirlo e da sfibrarlo tanto da non potersi più reggere in piedi. Tuttavia egli la sopporta con coraggio perché sa che solo la sua sofferenza potrà spezzarla. Per questo, dunque, si è lasciato legare per poter liberare le nostre anime sciogliendole dalla catena dei nostri peccati. Colloquio, sia sempre benedetta, lodata e ringraziata la tua carità, potente Salvatore, che sopportando quei dolorosi legami sul corpo hai sciolto e liberato la mia anima dalla screvitù del demonio. Già una volta mi avevi liberato col santo battesimo facendomi partecipi dei tuoi meriti infiniti, ma poi mi sono legato di nuovo con i miei peccati e la loro catena può essere spezzata solo col dolore e con il pentimento. Mio buon Gesù, liberami nuovamente per i tuoi meriti e fai che il mio cuore si consumi per il dolore di averti offeso. Rompi con la tua grazia le catene dei miei istinti che mi rendono schiavo di tanti vizi e concedi alla mia anima di rimanere strettamente legata solo al tuo amore tenero e puro, tutto sottomessa alla tua volontà e obbediente alla tua santa legge. L'amore che hai avuto per me è stato la causa della tua passione e il mio amore verso di te ne sia la conseguenza. Pratica. Offrirò a Gesù l'anima e il corpo e lo pregherò di legarmi con il vincolo della perfezione che è la santa carità in modo che io non mi lasci più incatenare da ciò che non è a lui gradito.